Siamo con Giuliano Chinello, Assessore del Comune di Bruggine e componente della consulta Giovani Amministratori di Anciveneto. A lui chiediamo l'importanza di avere dei giovani amministratori all'interno delle civiche amministrazioni. Ritengo importantissima la consulta dei giovani dell'Anciveneto. Il caso vuole che io sia anche Assessore al Commercio e a delle energie rinnovabili e alla comunicazione. Questa consulta che abbiamo fatto oggi è di grandi visioni per quello che riguarda lo scenario politico e soprattutto amministrativo di quello che sta succedendo nella nostra regione e soprattutto a livello nazionale. Ritengo cosa fondamentale e giusta che le politiche, sia a livello locale, che sono le più importanti perché siamo vicini ai cittadini e con i cittadini, devono stare vicino a tutte le varie associazioni di categoria, soprattutto il commercio. E soprattutto adesso è giusto parlare anche di energie rinnovabili perché noi che siamo giovani amministratori e riteniamo fondamentale che il nostro Stato, l'Italia, va di verso l'Europa, ma è fondamentale e importante che i giovani che noi abbiamo anche nelle scuole, negli asili e anche nelle varie categorie che stanno approcciando al mondo di lavoro, dare la possibilità a tutti di avere un futuro migliore, soprattutto in questo periodo che, come stiamo valutando, non è a livello lavorativo uno dei migliori. Quindi cercheremo con questa consulta giovanile di dare la possibilità ai giovani, uno, di farsi vedere, di dire da loro e di cercare di comunicare verso chi la politica l'ha già fatta, di fare, come diceva il nostro direttore prima dell'Anci, sapere, capire come andare, come andare a vedere il nostro futuro e riuscire a trovare il modo di recuperare quel tempo perso che con varie legislazioni, con varie vicissitudini non riusciamo più mai a tornare indietro. Quindi il futuro di questa consulta è capire domani cosa fare. Grazie.